Vedi che non me lo dici più di stare attento? Mi l'hai detto tu che possa stare tranquilla, no? Che non dobbiamo controllarci. Appunto, è lui che è controllato. È talmente sottile. Sì, proprio impalpabile. Bravo, Durex. Ma tu dove l'hai preso? A Londra? Tu, tesoro. Si trova in farmacia in Italia. Ma io non l'ho mai visto. Bugiarda. Sì, bugiarda. Adesso basta parlare di Durex. Adesso dimmi che mi vuoi bene, dai. Grazie.